Sono sempre meno gli studenti lecchesi bocciati all'ultimo anno di superiori. La provincia di Lecco ha concluso le rilevazioni degli esiti degli esami. Rimane stabile la percentuale di studenti ritirati durante il quinto anno, attestata tra lo 0,9 e l'1,4% degli iscritti. Si abbassa la 2,5% quella dei non ammessi agli esami, nel triennio precedente intorno al 3,2, e si conferma lo 0,5% quella dei non promossi all'esame di maturità, in linea con il dato nazionale. In tutto sono 2.444 gli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità, il 48% in un liceo, il 37% in un istituto tecnico, il 15% in un professionale. Rispetto all'anno precedente si registra un leggero aumento dei diplomati in un istituto tecnico più 2% e in un professionale più 1,3%, in lievecalo quindi diplomati in un liceo meno 3,2%. Tra questi il 44% ha conseguito la maturità scientifica, liceo scientifico 22%, scienze applicate 19%, musicale 2% e il 25% la maturità linguistica. Negli istituti tecnici il 29% dei diplomati ha frequentato l'indirizzo amministrazione, finanza e marketing, il 17% informatica e telecomunicazioni, un altro 17% turismo. Negli istituti professionali la maggior parte dei diplomati ha frequentato l'indirizzo servizi socio-sanitari, 45%. L'elaborazione dei dati raccolti, commette il consigliere provinciale delegato all'istruzione Marinella Maldini, ci restituisce un quadro preciso delle professionalità in uscita dalla scuola secondaria di secondo grado. Circa 250 diplomati in più rispetto allo scorso anno, con una prevalenza, conferma del trend registrato anche a livello nazionale, di diplomi di tipo liceale. Circa 900 diplomati nei nostri istituti tecnici e 300 nei professionali, si preparano ora ad affrontare il mondo del lavoro o il percorso universitario e circa 550 studenti che hanno conseguito la qualifica o il diploma professionale sono pronti a mettere a disposizione le competenze acquisite.